Signore e signori David Larible Ciao Andrea Eccomi qui, che piacere Che piacere essere qui ancora una volta E ritrovarvi Non siete proprio cambiati? Un po' più abbronzati, eh? Però aspetta un momento perché devo fare due chiacchiere un po' Dico a voi, 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 voi di quella famiglia Sì, esattamente Molto bene, lei è già seduto sul divano Tranquillo Bambino, smetti di giocare con il videogame Grazie, perfetto Signora, smetta di cucinare Ah, sta lavando i piatti? Allora, smetta di lavare i piatti Lo fa domani? Si sieda per una volta Sedetevi tutti in famiglia Rilassatevi Perché state per vedere dei numeri eccezionali Ah, anche la signorina Smetta di mandarsi gli sms con il fidanzato Grazie Ecco, perfetto Perfetto Eccovi lì Tutti seduti Quindi possiamo iniziare Oh, un bel numero tutto italiano Quello del nostro Flavio Zogni e i suoi elefanti Pensate che lui qua si già esibito tre volte E tutte e tre le volte ha visto un clown d'argento Un bel numero da record Vai Flavio, sei tutti noi Che ti 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 te ti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi Flavio ha 46 anni e naturalmente è una grandissima esperienza. Questo perché anche lui è stato un mammino prodigio. A soli 5 anni già sapeva quello che voleva fare, diventare un grande destratore. Ed eccolo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma guardate che spettacolo! Guardate i costumi di queste ballerine, non sono una vera meraviglia. I fatti di questo festival mi ha colpito come tutti i numeri siano curati sino al minimo dettaglio. Grazie a tutti. Bravissimo! Bravissimo! Grazie a tutti. 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 una Barca vista uno dei migliori talenti comici della storia del festival. insieme a suo fratello Daris, Fumagalli! Fumagalli! Daris non vuole più lavorare con Fumagalli perché è troppo stupido! Sei come tuo fratello! Ecco mio fratello! Attenzione! Attenzione! Da giovane voleva fare l'acrobata, poi si è rotto un tallone e ha dovuto rinunciare. La sua carriera è iniziata così, puramente per caso. Ma non è certo per caso che sia diventato uno dei migliori clown al mondo. Allora, grazie! La sua carriera è iniziata! Ah, sì? Tu hai un'idea? Sì, sì! Sì, sì! Reste là! Sì, sì che sia diventata da parte? Tu ho un sacco in una gara? Sì, come... come sei? ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.